Verso una riforma delle province, Pesaro-Urbino spera. A Pesaro Paola De Micheli lancia la sua candidatura a Dem. Chiese dannezzate dalle sisma, si lavora per le riaperture. Dopo due anni di stop, torna alla sfilata delle carnevale di Pesaro. Italservice, pizza lascia la presidenza a fine stagione. Una buona serata telespettatori di Rossini TV. Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di giovedì 19 gennaio che apriamo parlando di politica. Il presidente della provincia di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, ha partecipato ieri ad un incontro a Roma con il ministro Calderoli. Una riunione fra le province che ha messo i presupposti verso un ritorno a competenze perdute di quest'ultime. Una riforma particolarmente auspicata dal nostro territorio. Vediamo il servizio. Le province torneranno all'antico o quasi. Va in questo senso la proposta di riforma emersa ieri nell'incontro fra i rappresentanti dell'UPI, Unione Provincia Italiana, e il ministro per le autonomie Roberto Calderoli. Fra i 18 delegati presenti al confronto in ministero, anche Giuseppe Paolini, appena rieletto il secondo mandato di presidente della provincia, nonché presidente dell'UPI Marche. L'incontro ha fissato alcuni dei presupposti auspicati dallo stesso Paolini, a cominciare dalla cancellazione della legge del Rio col ritorno dell'elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. Bisogna andare verso l'elezione diretta, verso il suffragio universale. Si sta cercando il momento adatto per legarlo ad un'altra elezione. Sicuramente andrà a finire 2024-2025, per cui i presidenti che sono in scadenza verrà prolungato per un po' il mandato per arrivare a un'elezione tutti insieme. Per Paolini il governo si è reso conto di anni di depauperamento improduttivo degli enti ed è pronto ad una marcia indietro verso il ripristino di servizi a supporto dei comuni. La chiusura delle province che sembrava una soluzione di tutti i mali della politica e dei poltronifici è il contrario, ha portato solo disservizi, sono state trasferite le funzioni che hanno le province e le regioni che sono notoriamente più lontane sul territorio rispetto alle province. Sembra che quello che si è risparmiato Euro pro capite per cittadino sia 26 centesimi all'anno. Cioè, voglio dire, è una cosa assurda e pazzesca. Mentre invece sono dimezzate le spese di manutenzione ordinaria, perché la provincia, come sai, viene finanziata solo su investimenti nuovi. Comunque le spese di manutenzione ordinaria sono diminuite del 43% e capisco che poi la gente si arrabbia per le strade e questa roba qua. Però noi abbiamo un meno 43% e è stata quasi azzerata la capacità di investimento delle province che è un meno 71%. Si pensa di ritornare alla provincia come era o perlomeno che abbia le stesse funzioni che hanno le città metropolitane e andrà a finire poi con l'elezione a suffragio universale del Presidente da parte di tutti i cittadini. E poi la riforma tornerebbe ad allargare la provincia, oltre al Consiglio, anche aggiunta e assessori calibrati sulla demografia territoriale. Ritornerà, con quello che ha garantito il Ministro, ritorneranno tre assessori nelle province sotto i 350 mila abitanti, quattro sopra quelle 350 mila abitanti e sei nelle province sopra i 650 mila abitanti. Perché noi, se tutto va come prevediamo, avremo quattro assessori nella provincia di Pese d'Orbino. E sempre di politica continuiamo a parlare perché a Pesaro proseguono le presenze dei candidati alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Dopo quella di Stefano Bonaccini ha fatto tappa in città anche Paola De Micheli. Vediamo il servizio. A 24 ore dalla tappa di Stefano Bonaccini all'hotel Baia Flaminia, Pesaro ha fatto ieri da cassa di risonanza ad un'altra dei candidati alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Paola De Micheli, Piacentina, già Ministra delle Infrastrutture e Trasporti nel Governo Conte. Ospitata nella Sala del Consiglio Comunale dal Presidente Aspes Luca Pieri e dal Segretario Comunale PD Giampiero Bellucci, la De Micheli ha tracciato le linee di una ripartenza del partito attraverso le domande dei giornalisti Roberto Fiaccareni e Luca Fabri. Una filosofia PD di proposte fondate sugli iscritti e sul coinvolgimento popolare nei processi decisionali sintetizzata dal libro della De Micheli, concretamente prima le persone, illustrato nell'occasione. È una donna militante che conosce questo partito, che conosce anche questo paese per l'esperienza che ha maturato, per la capacità che abbiamo noi donne di essere anche molto severe nell'analisi del passato, degli errori, nella capacità di affrontare anche coloro che ti criticano, per la concretezza, per la visione, per il punto di vista femminile del mondo, perché noi abbiamo bisogno di cambiare l'organizzazione della nostra società, così è troppo esclusiva. Chi è dentro nel sistema sta dentro, chi è fuori fatica ad entrare, perché ci sono sempre meno opportunità e possibilità. Fra gli uditori della De Micheli in municipio anche l'ex governatore Luca Ceriscioli e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dichiaratamente schierato con Bonaccini. Fra i temi marchigiani sui quali si è soffermata la De Micheli, anche la ricostruzione post-sisma alla luce del recente avvicendamento di commissario fra Legnini e Castelli. Ho incontrato delle persone che vivono nelle aree del terremoto, che mi hanno riconosciuto, abbiamo chiacchierato a lungo e anche loro mi dicevano che Legnini aveva fatto un ottimo lavoro, ha fatto un ottimo lavoro, quindi non vedevo questa necessità urgente di una sostituzione. Ovviamente auguro buon lavoro a Castelli, perché è nostro interesse di tutta Italia, non solo delle marche, che la ricostruzione proceda velocemente, anche per mantenere vita e lavoro nelle aree interne, che sono una delle questioni che affronterò con più determinazione anche nel documento del Congresso. E abbandoniamo la politica, cambiamo l'argomento, tornando a parlare delle terremoto, perché a due mesi e mezzo dalla prima scossa, quella delle 9 di novembre, facciamo il leppunto e la situazione delle nostre chiese, che sono ancora inagibili, ma che con fatica tentano di riaprire i battenti. Vediamo. A due mesi e mezzo dalla scossa di terremoto del 9 novembre, le chiese danneggiate delle città di Pesorefano provano a ripartire. Ha cominciato in tal senso la chiesa dei Cappuccini, riaprendo i battenti dalla vigilia di Natale, grazie all'impegno dell'impresa Mercolini e Torelli, ed ora prova a risollevarsi per Pasqua anche la millenaria Pieve di Candelara, anch'essa dichiarata inagibile in seguito alle crepe create dal sisma. Dal 9 novembre ogni funzione religiosa è stata trasferita fra l'oratorio e la chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Nei prossimi giorni, però, previsto il completamento di un intervento con corde d'acciaio e tiranti, per garantire la sicurezza dell'edificio e avvicinarlo ad una nuova riapertura. Ora si cerca però di capire come finanziare un ripristino di struttura che richiederebbe un sostegno statale o della soprintendenza alle belle arti. Resta invece inaccessibile la seicentesca chiesa di Roncosambaccio, dove qui il rischio di crolli è più preoccupante e urge un radicale intervento strutturale. Per domeniche parrocchiane hanno organizzato all'esterno dell'edificio la tradizionale benedizione degli animali, ma per tornare fra le navate la strada è quanto mai nebulosa. Ed ora vi raccontiamo di una aggressione avvenuta questa mattina nel pronto soccorso di Pesaro quando un ventenne in evidente stato di ebrezza è arrivato in ospedale in ambulanza in seguito ad un incidente stradale. Il ragazzo, mentre attendeva l'esito degli esami, è diventato improvvisamente aggressivo ed ha iniziato a minacciare di morti il personale sanitario prendendo per il collo un infermiere. Poi, dopo essersi strappato di dosso gli accessi venosi, ha cominciato ad aggirarsi senza vestiti per il pronto soccorso continuando con le minacce. Il personale ha prontamente reagito mettendo prima in sicurezza tutte le persone presenti in etriage, allertando poi la vigilanza armata che staziona dinnanzi alle presidio ed attivando la chiamata di emergenza alle forze dell'ordine, che ha permesso poi l'intervento tempestivo dei carabinieri per sedare l'aggressione. E domani a Palazzo Gradari si terrà il primo incontro del neonato osservatorio sulle decoro urbano, uno sportello lanciato dall'assessorato alle attività economiche di Francesca Frenquellucci su proposta dello stesso quartiere del Centro Storico, in cui convogliare segnalazioni di disagi e proposte migliorative. Uno sportello d'ascolto che domani sarà attivo dalle 9 alle 13. E restando proprio in tema di Centro Storico, il 19 di febbraio tornerà a Pesaro dopo due anni di stop il Carnevale. Domenica 19 verrà finalmente riproposta la sfilata delle Carnevale dei Ragazzi per ritrovare pubblico numeroso sul rettangolo costituito da Piazzale Carducci, Viale Gramsci, Piazzale Matteotti, Viale Cialdini e Manzoni. Alla 66esima edizione della rassegna hanno finora aderito nuove formazioni, la parrocchia di Santa Maria di Loreto, Villa San Martino, il gruppo Torraccia, la parrocchia San Carlo, la Sacro Cuore di Soria, San Fabiano di Villa Ceccolini, Cattabrighe, San Pietro in Calibano e Roller Pesaro. E domattina alle ore 11 il comune di San Lorenzo in Campo inaugurerà un nuovo parco giochi in via Molino intitolandolo alle piccolo Mattia Lucconi, bambino di 8 anni scomparso tragicamente a causa dell'alluvione dello scorso 15 settembre. Mattia è stato riconosciuto come la dodicesima vittima dell'esondazione che ha colpito le province di Pesaro ed Urbino. Il suo corpo è stato ritrovato dopo 8 giorni di ricerche lungo il fiume Nevola. E sabato 21 gennaio il comune di Vallefoglia ricorderà il 79esimo anniversario dello scoppio della polveriera di Montecchio. La ricorrenza, prevista per le ore 18, avrà luogo presso la chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio, con la celebrazione a cura di Don Marco di Giorgio, a cui seguirà la deposizione di una corona allo monumento dei caduti in Piazza della Repubblica. Una iniziativa che si svolgerà a 79 anni da quell'21 gennaio del 1944, quando Montecchio fu colpito da un tragico scoppio della polveriera tedesca che causò la morte di 35 persone, oltre 100 feriti e decine di sfollati. E da Montecchio a Pesaro perché parte un ciclo di tre incontri per ripercorrere la storia della città attraverso le immagini del periodo fascista della Seconda Guerra Mondiale. Incontri dalle titolo La Guerra, una gran brutta storia. Sono in programma venerdì 20, mercoledì 25 gennaio e mercoledì 1 febbraio alle ore 18, nella Sala delle Consiglie Comunale. Nei tre pomeriggi, ad ingresso libero e gratuito, verranno proiettate parti del documentario Le stelle continueranno a brillare di Gastone Mazzanti. E la Colle Marathon 2023 non si correrà. Il comitato organizzatore ha deciso di rinunciare all'organizzazione della diciannovesima edizione della Maratona da Barchi a Fano e della Alf Colle Marathon da Mondolfo a Fano, che si sarebbero dovute tenere il 7 di maggio. Una decisione sofferta che è maturata a seguito di un'attenta valutazione delle tante necessità organizzative, dei tempi amministrativi, tecnici ed economici necessari per garantire il successo della manifestazione. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha convocato una riunione d'urgenza per tentare di salvare l'edizione. E domenica 22 gennaio si terrà a Pesaro la 32esima edizione della tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. L'appuntamento, organizzato dalle Giacche Verdi, è in Piazza delle Popolo ed è aperto a tutti gli animali che vivono in città. Cani, gatti, asini, cavalli, pesci, canarini, criceti e loro proprietari avranno la benedizione di Padre Aldo delle Convento di San Giovanni. L'appuntamento è per i cavalieri partecipanti alle ore 10.30 alle Parco Miralfiore, da dove partiranno in sfilata per le vie del Centro Storico fino all'arrivo in Piazza delle Popolo, previsto alle ore 11. Alla testa delle corteo è prevista la presenza della Polizia di Stato a cavallo di Firenze. E cambiamo completamente argomento e lo facciamo con un sorriso che è quello della clown terapia, un'attività che continua a portare grande gioia laddove ce n'è davvero più bisogno. Nelle prossime servizie vi ricordiamo come si può diventare clown conduttori. Vediamo. Parte l'11 febbraio a Pesaro il nuovo corso di clown terapia della Timmagini Onlus con le iscrizioni aperte fino alla fine di gennaio per diventare clown dottore nelle corsie degli ospedali di Pesaro e Fano. Un'opportunità per combattere l'emarginazione degli anziani e operare in missioni esteri in giro per il mondo. Lo scopo è quello di portare umanità a chi soffre aggiungendo un po' di sano umorismo e utilizzando solo un naso rosso, un camice colorato e il desiderio di vivere tante emozioni. I corsisti saranno fiancheggiati dai 18 volontari che da più di 10 anni fanno parte di questa associazione, oltre che da professionisti esterni che insegneranno le basi dell'improvvisazione teatrale, delle micromagie, del comportamento da tenere in ospedale e tanti altri trucchi per mettersi in gioco. Ma anche superare timidezza e paura acquistando tecniche per la propria autostima, imparando a relazionarsi serenamente con persone sofferenti portando gioia e allegria, ma sempre contatto e delicatezza. E concludiamo con lo sport e parliamo di Calcio 5 e concludiamo con una intervista fatta proprio alle presidenti dell'Ital Service e Pesaro Calcio 5, Lorenzo Pizza, che ha annunciato come si dimetterà appunto dalla presidenza alle termine di questa stagione. Sentiamo. Abbiamo preso questa decisione, io con la mia famiglia, con mia moglie, che comunque sarà l'ultimo anno in cui sarò presidente dell'Ital Service Calcio 5. È stato un periodo diciamo meraviglioso, è stata una storia fantastica perché è iniziata con la mia presidenza nel 2016-2017, ho preso la squadra in A2 l'anno di Cafu, l'abbiamo portati in A1 e poi abbiamo vinto otto titoli di seguito, quindi dal 2018-2019 fino al 2022, quindi sono stati anni meravigliosi. È come tutte le cose, ho detto, ci sono così, c'era una salita, un picco e poi inizia un pochino la fase di stabilizzazione, diciamo, perché comunque non c'è assolutamente una dismissione da parte della nostra famiglia in questo sport, anzi, come ho detto, noi rimaniamo, mia moglie rimane nel CDA e poi ci sono comunque quello che ho costruito in questi anni, diciamo, è stato costruito con delle basi molto sane, molto solide, perché comunque c'è un gruppo di 21 consorziati, 21 sponsor, che continueranno a sostenere questa meravigliosa realtà, sempre con me come, non probabilmente come main sponsor, ma come secondo sponsor, perché c'è una grossa azienda, un istituto che vorrebbe mettere il nome a questa società, a questa gloriosa società, a questa riprova, che comunque ci siamo mossi bene, abbiamo lavorato bene e quindi, come dico sempre, come diceva anche mio padre, l'importante delle società, la forza di una società la vedi quando vengono spersonalizzate e si hanno la forza di andare avanti. Quindi probabilmente sono riusciti in questo intento spersonalizzandola e quindi comunque continuando a far andare avanti il calcio a 5, il settore giovanile, perché non dimentichiamoci che la nostra ricchezza è determinata anche da quello, in quanto abbiamo 200-230 ragazzini che giocano a calcio a 5, quindi non verranno assolutamente abbandonati, non verrà abbandonato il campionato di Serie A, perché ci sono questo gruppo di consorziati che comunque, sempre con noi all'interno del CDA, con mia moglie Simona Marinella all'interno del CDA, che comunque continuerà a mandare avanti in questo sport. Ecco, il futuro si costruisce anche sul presente, il presente, dice, di un campionato di Serie A particolarmente complicato, forse più complicato del previsto anche alla luce di alcuni infortuni che hanno viziato questa stagione, possiamo dire così. Assolutamente, sì, è proprio come dici tu, siamo stati molto sfortunati, è vero che abbiamo vinto un titolo, perché siamo per adesso l'unica squadra che quest'anno ha vinto il titolo, la Supercoppa. Tra l'altro, la curiosità è che abbiamo vinto l'unica partita in cui abbiamo giocato con la squadra completa, è stata la Supercoppa e l'abbiamo vinta. Poi dopo siamo stati sfortunatissimi, perché siamo stati falcighiati da infortuni terribili. L'altro giorno parlavo con Fulvio Colini e lui mi ha detto, no, così ci confrontavamo, perché comunque da parte della società c'è la massima fiducia nell'allenatore, non è mai stato messo in discussione e Fulvio giustamente mi diceva, io cosa devo fare? Lorenzo, io dall'inizio della stagione non sono mai, mai riuscito dalla preparazione ad allenare la squadra al completo. Quindi, sai, si fa anche fatica a vedere la forza di una rosa che comunque è stata stravolta. Speriamo adesso di recuperarli tutti, di recuperarli il prima possibile perché adesso abbiamo una volata importante, perché mercoledì prossimo c'è la fase eliminatore per le finali di Coppa Italia, quindi abbiamo l'84 di Torino. Se vinciamo facciamo un passo avanti e quindi possiamo arrivare direttamente alle Final Four di Coppa Italia. Quindi ecco, il periodo più importante è questo. Dovremmo cercare di raggiungere i play-off. Io spero di provare ad agganciare questo ottavo posto, per adesso siamo lontani. Sabato, partita col Melilli, è un possibile trampolino di rilancio? È una partita fondamentale, perché Melilli in questo momento sono ultimi in classifica. È una classifica bugiarda per il Melilli, perché comunque è una squadra che è stata molto ben attrezzata e molto ben costruita. Tant'è vero che hanno perso quasi tutte le partite con un gol di scarto, quindi vuol dire che sono sempre attaccati alla partita, non sono una matricola che viene asfaltata. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché un'eventuale sconfitta vorrebbe dire veramente aggravare ulteriormente la situazione e complicarla. Chiaro, una vittoria ci darebbe quella spinta, quell'ossigeno, quella volontà e quella tranquillità per affrontare mercoledì prossimo l'Ello 84 in Coppa Italia e poi domenica prossima sempre l'Ello 84 in campionato, perché la spostiamo domenica, essendo le partite poi troppo vicine. Chiaro che se riuscissimo a infilare due vittorie consecutivi, Melilli e l'Ello 84 in casa, inizia un pochino la classifica a distendersi e quindi incominciamo a intravedere quella famosa ottava posizione che per noi è fondamentale. E con quest'ultima notizia di sport si conclude questa edizione di Rossini News. Prima però andiamo a vedere qual è la programmazione in onda sul nostro canale. Iniziamo da questa sera, dove andrà in onda una nuova puntata di Insieme a Canestro. Ve lo ricordiamo, siamo rigorosamente in diretta, ore 21.20, in diretta sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook. Il nostro Marco Cadeddu in questa occasione ospiterà il vice allenatore della Carpegna Prosciutto, Baschete Pesaro, Bruno Savignani e al suo fianco ci sarà un ex giocatore della Vittoria Libertas, ovvero Federico Pieri. Vi ricordiamo anche che potete commentare in diretta al numero di WhatsApp 370-366-7210 oppure commentare anche la diretta Facebook e ci saranno in paglio come sempre due biglietti per la parita di domenica, anzi di sabato sera, scusate, contro Verona. Domattina ci ritroveremo con Daniele Sacchi con la rassegna stampa della provincia di Pesaro e Urbino alle ore 7.20, sempre in diretta, in diretta anche in questo caso sulla nostra pagina Facebook e poi le repliche che vedete in grafica. Ci proiettiamo anche a domani sera alle ore 19 di venerdì 20 gennaio Spazio Z, i racconti della generazione Z, la nostra Letizia Moretti sarà ancora una volta al Liceo Mamiani, la seconda parte dell'Iceo Mamiani di Pesaro dove Letizia dialogherà con i ragazzi di questo istituto. Domani sera ore 19, ore 23 e le repliche che poi vedete di conseguenze in grafica. Ed è davvero tutto per questa nuova edizione di Rossini News io vi lascio le previsioni delle meteo e vi auguro un buon proseguimento di serata. e vi auguro un buon proseguimento di serata.